Ciao, sono Zanni di Turbolub.it. Registro questo rapido video per segnalare a voi smanettoni appassionati di criptovalute e di trading in ascolto la possibilità di ottenere 30 euro in omaggio, oltre a un periodo di 6 mesi di commissioni sulle trading di criptovalute completamente a zero. Se l'argomento ti interessa, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su Turbolub.it. Con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. Come sai ci tengo alla massima trasparenza, questo video è sponsorizzato dall'azienda della quale ti parlerò fra poco, ma come al solito ho accettato perché ritengo che sia un'opportunità interessante per tutti voi in ascolto. Ricorda però che io sono un consulente informatico e non un promotore finanziario e questo video non costituisce un consiglio o un invito all'investimento. Bene, come fare allora per ottenere questi 30 euro in bitcoin in omaggio e 6 mesi di trading a zero commissioni? Bene, il progetto si chiama Coinbar, ne abbiamo parlato in un approfondimento pubblicato su questo canale qualche settimana addietro e come sappiamo Coinbar sta cercando di lanciare un nuovo exchange regolamentato secondo la giurisprudenza italiana e completamente legale nel nostro paese e per farlo ha bisogno del nostro aiuto, ovvero ha bisogno di qualcuno che testi con mano il nuovo exchange che stanno per lanciare e rendere disponibile a tutti. Per incentivare la partecipazione degli utenti hanno quindi deciso appunto di lanciare questa fase di beta testing rivolta appunto agli appassionati di criptovalute e agli smanettoni. Il premio appunto è le transazioni a zero fee come vediamo qui e per tutte le operazioni di trading anche per 6 mesi quindi ben oltre la durata del test. Per chi svolgerà tutte le operazioni seguendo le istruzioni indicate in questa pagina fino alla fine c'è appunto il bonus di benvenuto del valore di 30 euro che verrà depositato in bitcoin direttamente sull'exchange. Quindi cosa dobbiamo fare? Innanzitutto registrarci quindi al nuovo exchange quindi segnalare la nostra disponibilità al progetto Coinbar e completare il processo di KYC ovvero New York Customer cioè presentare i documenti. Depositare 200 euro in bitcoin e svolgere un minimo di 50 transazioni durante il periodo di test. Per chi completerà tutte queste operazioni riceverà in omaggio appunto 6 mesi di transazioni gratuite e i 30 euro di bonus di cui abbiamo parlato. Per tutte le informazioni aggiuntive, il regolamento completo e la possibilità di candidarsi fate riferimento al link che vi ho proposto qua sopra per l'articolo completo che abbiamo pubblicato su turbola.it con tutti i riferimenti. Nel frattempo il team di Coinbar mi ha comunicato che tutto sta procedendo secondo la loro roadmap stanno proseguendo con le trattative per aprire i locali fisici di Roma prima e Milano in seguito e stanno sostanzialmente andando avanti con la vendita delle azioni tokenizzate così come comunicato nel whitepaper. Se volete saperne di più sul progetto Coinbar fate riferimento all'informativa che trovate qua sopra per il mio video completo. Bene da Zanni di Turbolab.it è tutto. Come al solito se il video ti è piaciuto ti credo di cliccare mi piace. Fammi sapere se hai fatto la beta testing di Coinbar, se hai partecipato come ti sei trovato. Spero sicuramente di partecipare anch'io e di fare un video sull'uso di questo exchange nel prossimo futuro. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video non dimenticare di cliccare sul grande pulsante iscriviti che trovi qua sotto e sulla piccola campanella di fianco. Al prossimo video, ciao!